ciao a tutti benvenuti o bentornati in questo canale oggi faremo un progettino semplicissimo con pochissimo materiale innanzitutto ci servirà della vernice acrilica una rossa e una verde per velocizzare il video io ho già tagliato due striscioline di feltro 16 x 1,5 e poi questa strisciolina piccolissima di 8 mm l'altezza è sempre 1,5 sono due ovviamente e poi con questa carta con questo cartoncino anzi glitterato dorato della misura di 3 x 1,5 e poi ci serviranno due rotoli di carta igienica che poi dipingeremo così e adesso possiamo utilizzare la colla a caldo oppure una colla liquida io preferisco la colla a caldo perché più resistente metteremo la colla a caldo lungo la striscia metteremo in questo modo e chiudiamo stiamo attenti alla colla a caldo adesso dobbiamo inserire questo come appunto se fosse la cintura di babbo natale e adesso questo cercando di farlo di metterlo diciamo proprio al centro in maniera tale che sia una continuazione della cintura il gioco è fatto stessa cosa faremo con questo e adesso possiamo abbellire come più ci piace io ho utilizzato delle stelline e dei punti luce e adesso possiamo tranquillamente mettere i nostri tovaioli nella tavola saranno da effetto sono molto carini semplici da fare che si come vedete in pochissimi minuti si possono realizzare spero vi sia piaciuto questo tutorial e alla prossima ciao a tutti